Si cambia sui bonus edilizi, super bonus compreso per i nuovi interventi non sarà più possibile ricorrere alla cessione del credito allo sconto in fattura. Una stretta del governo con un decreto per risolvere il nodo dei crediti e mettere in sicurezza i conti pubblici, ma che le imprese e le associazioni non digeriscono perché rischia di affossare davvero famiglie e imprese. Per i nuovi interventi, non per quelli già avviati, resta solo la strada della detrazione d'imposta. Per il governo nel Merino non c'è il super bonus in sé, ma la cessione dei crediti d'imposta, una montagna da 110 miliardi che va gestita. Il decreto, composto da due soli articoli, spegnerebbe anche l'esperienza avviata da alcuni enti pubblici, Regione Abruzzo compresa, di acquistare i crediti incagliati, annunciata solo qualche giorno fa. Imprese professionisti, ma anche uffici speciali, attendono di saperne di più, soprattutto di capire in che modo la ricostruzione viene inserita nel discorso, ma il presidente dell'Ordine degli Ingegneri dell'Aquila, Pierluigi Di Amicis, si dice davvero molto preoccupato sotto tutti i punti di vista. Guardate, da cittadino sono preoccupato, da ingegnere sono disperato, dal presidente dell'Ordine sono terrorizzato di questi andamenti, perché non abbiamo più una certezza, vediamo che anche quello che è in essere, che è in atto e che si sta facendo potrebbe subire dei blocchi, degli stop. Questo partendo dal presidente dell'Ordine che è disperato e terrorizzato, perché vede tutti i suoi colleghi iscritti agli ordini, ma non solo ingegneri, ma qualsiasi altro professionista coinvolta, che hanno investito del proprio in queste attività e si trovano oggi non solo con pugnini mosche, ma anche a combattere probabilmente con quelli che sono gli interventi non conclusi. Da ingegnere mi trovo anche io, come tutti quanti, in queste condizioni, ma da cittadino sono veramente preoccupato, perché molti sono i casi di interventi che erano stati programmati, iniziati o in corso di consegna dei lavori e si bloccano. Immaginiamo di trovare edifici che devono essere demoliti con il bonus, quindi svuotati completamente e nello svuotare è anche fisiologico che qualche proprietario abbia tolto delle parti e delle componenti dell'immobile, per esemplificare un piatto doccia, piuttosto che una vasca, due termosifoni, e è andato in affitto, subendo anche quindi questo ulteriore onere dell'affitto che era ben visto nell'ottica di una ricostruzione di un edificio sicuro e oggi non sa più cosa fare. Da un lato vedo che c'è una normativa che finalmente sta arrivando a conclusione, quella è la zonazione sismica per quanto riguarda il sisma 2016. Dall'altro vedo invece che c'è abbassare forse un pochettino la guardia per quelle che sono le misure per permettere ai cittadini di poter migliorare o adeguare i propri immobili. Quello che credo fermamente e in maniera convinta che debba essere prima il sisma bonus a precedere. L'eco bonus sì è importante, però intervenire su un edificio, interventi di eco bonus senza aver garantito quella della sicurezza sismica, ancor più magari andandolo a coprire con un cappotto che renderebbe anche poco visibili eventuali danni o deterioramenti alle parti strutturali, non credo che sia l'optimum.